È stato già firmato il contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria dei lavori e che si occuperà della ristrutturazione e dell'efficientamento energetico del palazzo municipale di Bivona. Lo annuncia il sindaco del comune sicano, Milco Cinà. L'opera è frutto di un progetto presentato dall'amministrazione comunale nel 2018 per un finanziamento pari a 1.250.000 euro. Gli interventi nel dettaglio prevedono il rifacimento del cappotto esterno, della copertura, infissi, illuminazione, impianto fotovoltaico, solare termico e l'abbattimento delle barriere architettoniche dell'edificio comunale. Esprimo grande soddisfazione per l'inizio di un cantiere importante, afferma il sindaco Cinà, grazie al quale finalmente prende vita un progetto strategico più ampio di riqualificazione dell'intera area del complesso gesuitico che ospita la sede comunale, cosa che garantirà a utenti e personale dipendente una migliore accessibilità e vivibilità che questo edificio storico e la comunità di Bivona meritano. Il progetto e il finanziamento sono stati seguiti, oltre che dal sindaco, dall'assessore ai fondi europei e all'urbanistica Angela Cannizzaro, dal dirigente del settore tecnico Marretta e da tutti i tecnici comunali. Per tutto il periodo dei lavori, ovviamente, gli uffici comunali di Bivona saranno trasferiti nei prossimi giorni in altri locali, ossia quelli dell'ex Università in Via Roma e in quelli dell'ex Convento di Santa Rita in Piazza San Giovanni. La dislocazione precisa degli uffici nei due diversi edifici sarà comunicata nel dettaglio nei prossimi giorni. Un finanziamento importante per la comunità bivonese, che va ad aggiungersi, ad esempio, a quelli ottenuti in merito alla viabilità provinciale, alla progettazione della strada Maremonti e all'avvio dei corsi di formazione ITS Sicani.